Il tema della sostenibilità è un tema molto delicato. Il problema è che oggi sta diventando uno slogan che in bocca a tutti tende a coprire anche gli interventi peggiori. Il fatto che un edificio sia in classe A o che abbia una targa di green architecture non è di nessuna garanzia della qualità dell'architettura stessa. L'architettura deve incorporare l'istanza ecologica al suo interno a prescindere, quindi la sensibilità verso questi temi deve essere connaturata all'architettura stessa, ma non deve diventare uno slogan. In questo senso la nostra idea di sostenibilità è più declinata come un'idea di rispetto verso i caratteri del luogo. I caratteri del luogo che più delle volte danno già tutte le informazioni perché un progetto riesca ad inserirsi in un contesto fisico e sociale ed entrandone in sinergia ma rispettando tutti gli aspetti sia ambientali che umani che già configurano quel luogo. Il tema del concorso è lo strumento più democratico, non ci sono architetti giovani o architetti vecchi, ci sono solo architetti più sensibili e architetti meno sensibili. Il tema è affinare lo strumento del concorso che in Italia spesso è ancora assolutamente primitivo nella definizione del bando, nelle giurie, nei premi, nel programma, nelle reali possibilità di svilupparlo poi in un progetto che diventi concreto, che diventi realtà. Quindi noi crediamo che lo spazio per crescere qui in Italia ci sia e che la crisi sia solo una copertura di inefficienze che in realtà possono essere coperte col buon senso trasformando il concorso in uno strumento fantastico per portare qualità nei nostri paesaggi.